Empoli-Napoli, dove vederla in Sky o Dazn? Firenze allo Stadio Castellani di Empoli L'Empoli di Zanetti ospita il Napoli di Spalletti nella gara valida per la 24esima giornata di campionato. A dirigere l'incontro l'arbitro Eroldi. Partita, Empoli-Napoli orario partita, ore 18 canale TV, Dazn Pay TV streaming, Dazn dove a che ora vedere Empoli-Napoli orari e canali Empoli-Napoli. Match valido per la 24esima giornata di campionato, è in programma alle 18 allo Stadio Castellani di Empoli e sarà trasmesso in diretta da Dazn in streaming Il match sarà visibile su Dazn. Empoli-Napoli in diretta, la cronaca nell'ultimo turno di campionato l'Empoli ha pareggiato con il punteggio di 1-1 in casa della Fiorentina. Il Napoli capolista invece nella scorsa giornata ha vinto 2-0 in casa del Sassuolo. Qui le probabili formazioni Empoli-Napoli, segui la diretta sul nostro sito segui la serie A su Dazn, attiva ora.